Santa Ninfa Santa Ninfa è attraversata dallo scorrere sotterraneo del torrente Biviere. I diversi rami di due gallerie sovrapposte si estendono per un percorso sotterraneo di oltre 1500 metri. Nel territorio dello stesso comune sorge anche il settecentesco castello neogotico di Rampinzeri. Recentemente restaurato, è sede di un elegante agriturismo e di un avviato centro ippico. Il castello è citato da Tommasi di Lampedusa nel romanzo Il Gatto Pardo. Il Gatto Pardo